... Mamma mia, io sono cascato a innamorare. Ma vado su per la montagna. Oh, è che se è rimasto colpito da un uomine. Mi chiedo, lascia bella. In Sicilia le femmine sono come Alupara. Questo è il mio cucino Rapporti. Questo è il sareto come compare, sareto Spadaro, che è la sua fidanzata. Questo è il mio cucina Pempina e Pempino Viola. E questo è il mio napote, i potenti. E questo sono tutti i potenti. E questo è il mio cucina Pempino Viola. E questo è il mio cucina Pempino Viola. E questa è la mia figlia Apollonia. E questo è Michele di Corleone. Grazie. Speaking of Pempino Viola. E questo è il mio cucina Pempino Viola. E questo è il mio cucina Pempino Viola. E' un po' per parlare. E' un po' per parlare. E' un po' per parlare. 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 Un po' per parlare.